buon pomeriggio sono Michele Leone come vedete è già presente il nostro ospite di questo pomeriggio Marco Marculotti ideatore e fondatore di Axis Mundi. Ciao Michele grazie per l'invito e grazie a tutti gli spettatori che vorranno seguire stasera. Grazie a te. Prima di iniziare vi ricordo Lexicon Simbolorum è un progetto di divulgazione e formazione su società segrete tradizioni e simboli seguite il nostro canale se volete approfondire trovate in descrizione il link per poter sostenere il progetto. Subito dopo la sigla arriva Marco. Eccoci qui di nuovo grazie Marco per essere nostro ospite due parole su Marco Marco è il fondatore di Axis Mundi del quale gli chiederemo tra un attimo ed è una persona che io invidio invidio perché perché è bravo è preparato a un sito che ha così tanti follower che io pagherei per averne la metà e soprattutto e questo è il suo vero punto di forza ha probabilmente vent'anni o meno di me e questa è una grande competenza. Ci ho detto Marco prima di arrivare all'argomento di oggi che cos'è Axis Mundi per quei pochi che non lo conoscono? Allora ti ringrazio della presentazione innanzitutto oltre che dell'invito. Axis Mundi è un progetto editoriale che nasce come blog digitale che nel dicembre del 2015 quindi siamo nel settimo anno di di lavori diciamo inizialmente l'ho fondato da solo ma ormai in questi sette anni ho pubblicato ormai un'ottantina di collaboratori praticamente a livello di di tematiche siamo su come come pensa il pubblico che mi segue sulla storia delle religioni su folklore esoterismo antropologia del sacro e letteratura del fantastico. Axis Mundi poi è diventato anche cartaceo da da un anno dalla scorsa estate che abbiamo stampato appunto il primo albo cartaceo da collezione se siete interessati sul sito axismundi.blog subito all'inizio della pagina della home page trovate le indicazioni per acquistarlo se volete. Altre due parole su questi sull'albo cartaceo il prossimo visto che è annuale facciamo un albo annuale di 108 pagine a colori patinato formato a 4 il primo albo appunto che è uscito queste stelle scorse estate sul sulla corrente letteraria e cinematografica cosiddetta folk horror e invece il prossimo albo che è quello del 2022 che uscirà a ottobre sarà interamente dedicato alle alle feste di fine anno che è un argomento connesso all'argomento che andiamo a toccare oggi cioè quello delle feste di fine inverno inizio primavera cioè quelle di febbraio vedremo sia nella tradizione celtica che nella tradizione romana. Un'altra altre due parole su su Axis Mundi per dire che sto preparando il primo paperback che uscirà prossimamente nei prossimi mesi per la casa editrice per l'Axis Mundi edizioni non ho ancora annunciato l'argomento però è questione di poche settimane poi lo annuncerò su tutti i canali quindi se siete interessati ecco tenete d'occhio la mia pagina personale i canali di Axis Mundi. A questo punto noi frusteremo Marco perché la domanda sui progetti del 2022 gliela volevo fare in chiusura di trasmissione ma lui come al solito va allo stato brado a differenza mia che vado allo stato bradico. Dopodiché per segnalarvi la serietà di Marco e di Axis Mundi non mi ha chiesto una volta di scrivere un articolo. Questo vuol dire che è una rivista serissima sto scherzando ovviamente io ve la consiglio perché sono un lettore un fan di Marco e di Axis Mundi. Ci ho detto veniamo a l'argomento di oggi. Neanche a farlo opposta oggi è candelora, la festa della luce, noi auguriamo tanta luce ai tuoi progetti e ai nostri amici in ascolto. Ma in questi giorni sui vari social io ho visto tante foto con falò, candele, fiori, dolci e la scritta Involc. Per gli amici che non sanno cosa sia Involc, ce lo puoi raccontare per favore? Certo, molto volentieri. Allora, Involc è una delle due grandi feste che di cui oggi andremo a parlare in maniera un po' vasta e è appunto la festa della purificazione in ambito celtico. La prima cosa da dire è che è equidistante dal cosiddetto sostizio invernale e poi dall'equinozio primaverile. Lì distanzia, Involc appunto essendo inizio febbraio, lì distanzia una quarantina di giorni dal sostizio invernale e dall'equinozio primaverile. Lo so che questa è una parola che non ce la facciamo più a sentire che è la quarantena appunto visto quella situazione in cui ci troviamo. Tuttavia appunto bisogna sottolineare come il carattere sacrale dal concetto di quarantena deriva appunto da questo periodo di tempo di 40 giorni che nel calendario sacro dei celti distanziava Involc da appunto la sostizia invernale e l'equinozio primaverile. Perché è considerato questo periodo di 40 giorni un periodo di purificazione? Perché va tutto visto nel contesto della cosiddetta crisi invernale o crisi sostiziale. Quindi i rituali di questo tipo ricordiamo che febbraio il nome del mese deriva dal latino febbra cioè purificazione e la dea febbra era Persefone la dea degli inferi e il dio febbra era invece Plutone cioè anche lui il dio degli inferi. Quindi vedremo anche come in queste due feste sia la Involc dei Celti ma soprattutto i lupercali romani è molto evidente l'aspetto funerario della festa e l'importanza che hanno gli spiriti dei morti anche nel processo di rigenerazione della primavera appunto perché sia Involc che i lupercali romani definiscono la fine della stagione invernale e della cosiddetta crisi invernale. Come vedremo è una festa che ha a che vedere etimologicamente con i concetti di rigonfiamento, di sacca, a veicolare un'idea appunto di fecondità, di fertilità perché appunto noi sappiamo che nelle culture appunto fondate sull'allevamento il febbraio è il mese in cui gli agnellini da latte appunto le cui mammelle si riempono di latte quindi a sottolineare questo questo rigonfiamento, questa sacca appunto che sarebbe la traduzione letterale di Involc. Poi avremo modo anche di vedere che questo contatto con le feste funerarie si riconnette anche con la pratica dell'incubazio, cioè che è una pratica iniziatica che appunto alcune confraternite sacre, maschili come appunto i lupercali romani in questo periodo dell'anno compivano dei rituali iniziatici appunto fondati sull'incubazio. Poi vedremo anche il perché il 2 febbraio è collegato all'incubazione, l'incubazione sia della primavera ma anche l'incubazione appunto dell'orso e quindi anche dell'iniziato che in questa condizione di incubazio appunto è come se mitasse l'orso. Diciamo subito che questo culto dell'orso che vede un po' l'orso come un iniziatore sciamanico è molto antico. Diversi autori tra cui i nostrani Benozzo e Alinei lo riconducono addirittura al periodo paleolitico e questo culto dell'orso come iniziatore sciamanico e come modello esemplare di iniziato lo ritroviamo in tutta l'area subartica sia dell'Asia che dell'Europa come i finnici in Finlandia, i Sami e poi lo ritroviamo anche nella zona subartica dell'America cioè delle popolazioni native americane che poi magari diciamo due parole anche su questo hanno o avevano una ritualità connessa alla fine del dell'anno quindi al sostizio invernale alla crisi invernale e poi appunto alla fine dell'inverno all'inizio della primavera estremamente simile alle feste europee tra cui appunto si inquadra quella dei dei lupercali. Ok prima di andare a Roma però io mi fermerei ancora nella zona del nord Europa se tu sei d'accordo perché questo è un periodo di grandi feste come giustamente dicevi tu è il momento che preannuncia quasi la primavera tant'è che l'orso esce a seconda del cielo decide se stare 40 giorni o meno. Tra le altre cose le coincidenze ovviamente virgolettato in corsivo con la quaresima con il carnevale mi vengono in mente le feste le antesterie dell'antica grecia che erano tra le altre cose legate in qualche modo al culto dei morti perché nella festa di Dioniso compare Ermes, Ctonio e Rompo. Quindi in queste feste c'è un legame anche con il mondo dei morti? Assolutamente sì però questa domanda io la terrei più sull'ambito romano nell'ambito dei lupercali più che quello e parliamo a questo punto di Santa della festa di Brigitte. Bravo si parte da Santa Brigitte appunto per il discorso di Himbole e poi adesso spiegheremo anche in quale modo con la cristianizzazione appunto la Vergine Maria ha preso dei caratteri che appunto erano propri di Brigitte in quanto divinità appunto della luce e della purificazione anche. Allora la Dea Brigitte venne festeggiata in ambito irlandese e appunto il primo febbraio questa è la festa di Brigitte e in realtà Inbork non è solo il primo febbraio, Inbork contiene diverse celebrazioni che avvengono all'inizio del mese quindi il primo febbraio, il due febbraio, il tre febbraio va avanti fino grosso moro al cinque febbraio che è la festa cristianizzata di Sant'Agata. Vedremo subito, anzi vediamolo subito, Sant'Agata è la santa protettrice delle partorienti praticamente e questo ovviamente è un lato che prende da Brigitte e dall'altra Dea Celtica a lei equivalente in questo senso che è la Dana, la famosa madre dei tatua dei Dana, la madre e matrice anche di Tua Tade Dana. Brigitte aveva tra i vari epiteti degli epiteti appunto che sottolineavano il suo lato luminoso come per esempio Belisama come veniva chiamata nell'area anche dell'Italia settentrionale che vuol dire la molto luminosa. Tra l'altro c'è da dire che il Duomo di Milano, io vivo a Milano quindi sono connesso da Milano, posso parlare del Duomo di Milano in questo senso, si caratterizza come l'unica cattedrale in Europa in cui il punto più alto vi è non Gesù Cristo ma la Vergine Maria, questa statua appunto della Madonnina d'oro. Perché? Perché anticamente il Duomo di Milano è stato fondato, costruito al di sopra di un tempio, di un altare a Belisama, questo è il motivo. Belisama era la paredra del dio della luce celtico, cioè Beleno, in aria irlandese, poi anche francese chiamato Lug, dalla etimologia che noi possiamo ricondurre anche al greco Leukos, a latino Lux e via dicendo, comunque è una radice indoeuropea diffusa in tutti gli idiomi sia latino che gaelico e via dicendo. Cosa possiamo dire di Brigida in questa sua funzione? Innanzitutto sia Brigida che Dana hanno questa caratteristica di essere divinità protettrici delle partorienti e quindi vengono viste come una porta in un certo senso. Infatti Diana etimologicamente è connessa a Yanua, che vuol dire ovviamente porta, ed è sia la porta nel senso del parto, dell'anima che viene in vita nel mondo sublunare, ma è anche quella porta dell'anno appunto, che fa passare dall'inverno alla primavera. Noi ritroviamo poi questa etimologia appunto nella Diana dei romani, dei latini, che pure veniva detta Diana Lucina. Anche qua appunto vediamo la caratteristica di idea luminosa e di idea del parto. Vediamo che l'elemento luminoso, lucente, è connesso sia al parto in sé, sia appunto al passaggio dall'inverno alla primavera, quindi la fine della cosiddetta crisi solstiziale. Abbiamo già detto che Sant'Agata è una delle sante cristianizzate che viene festeggiata appunto il 5 febbraio in sostituzione dell'antica Dea Brigida. Ancora possiamo sottolineare come un'altra divinità che, anzi un altro santo che è stato appunto cristianizzato rispetto alla tradizione celtica antica, è San Biagio. Perché è importante San Biagio? Viene festeggiato il 3 febbraio e come hanno dimostrato vari studiosi della paganità celtica e nordica, il calendario dei santi cristiano viene derivato, viene influenzato anche etimologicamente dalle feste della paganità antica. Biagio viene connesso etimologicamente all'antico norreno di Azen che vuol dire vento. Questa è un'altra caratteristica centrale di Imbolc perché appunto questo Imbolc, questo rigonfiamento, questo sacco che sta appunto a significare la pienezza primaverile che sotto le nevi invernali è pronta a emergere appunto con l'arrivo della primavera, questa pienezza è portata appunto dal vento, dal vento primaverile che è lo zefiro greco fondamentalmente e che invece nell'antica Roma veniva chiamato veniva chiamato, aspetta che me lo so segnato, Favonius, veniva chiamato Favonius ed era anche etimologicamente questo vento connesso a Fauno che vedremo poi quando parleremo di Lupercali come si riconnette anche alla festa di Imbolc. Perché? Perché San Biagio è connesso anche al lupo etimologicamente dal gaelico e il lupo è centrale nelle celebrazioni dei Lupercali appunto come vedremo, è appunto connesso all'agnello, infatti via questa coppia dicotomica, poi vedremo meglio, che è formato dal lupo Ierpus e dal caprone in realtà Iercus, cioè cambia solo una lettera, la P e la C, sono strettamente connessi in questa dicotomia il lupo simbolicamente sta a significare appunto la stagione invernale che si sta per concludere, quindi la sterilità e l'inverno e anche in qualche modo la dimensione infera dei morti ed è connesso appunto anche, come andremo a vedere, a quei rituali di incubazio che si fanno in questo periodo dell'anno. Invece al contrario il lovino è epifania strettamente primaverile perché la primavera inizia appunto nel segno dell'ariete ed è appunto un simbolo paradigmatico appunto di fertilità e di fecondità, appunto abbiamo già visto che febbraio è il mese in cui, tra febbraio e marzo, tra cui le mammelle degli agnelli da latte si riempono e quindi questo riconfiamento, questo soffio portato dal vento primaverile viene veicolato appunto nel rituale e anche poi nella concezione mitica da questa accoppiata tra appunto il lupo e l'ovino in qualche modo. Ti ringrazio Marco, io nel frattempo chiedo scusa ai nostri amici ma c'era stato un errore e solo in questo momento siamo entrati nella diretta di Lexicon Simbolorum su YouTube mentre eravamo sul mio canale su YouTube, quindi ho fatto un po' di pasticci, la senilità perdonatemi. Ma quindi è andato in onda o no finora? Cosa? È andato in onda finora o no? Sì 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 sì, è solo un errore, è solo un errore sul canale. Ma prima di arrivare a Roma io vorrei chiederti qualcosa sia su quello che ha detto Jacopo da Varagine sull'argomento sia il collegamento poi con Proserpina e tutto il mito greco. Mi sembra che ci siano degli elementi di collegamento importanti e se non ricordo male tu nel 2018 nel tuo articolo avevi già parlato di questo. Tra le altre cose trovate in descrizione il link all'articolo di Marco che parla di questo e ovviamente dal link poi risalite a Axis Mundi. Beh guarda si potrebbe anche dire qualcosa, visto che avevi nominato l'argomento poi mi era passato di mente il fatto dell'incubazione dell'orso che questo è una delle tematiche principali dell'involc celtica che è un altro argomento che in realtà dovevo trattare in relazione a Brigitte quindi è meglio che lo riprendiamo subito perché una delle divinità celtica a cui era collegata Brigitte era la dea Artio che è una dea ursina che era connessa alle iniziazioni femminili della pubertà praticamente il passaggio appunto alla pubertà e quindi alla alla fase generativa diciamo che appunto connessa alle divinità del parco eccetera. Ora questo è importante anche in ottica mediterranea perché vi erano anche nell'antica Grecia e poi a Roma dei rituali ad Artemide che appunto è la dea che abbiamo connesso alla Brigitte Dana Gaerica cioè la Diana, Diana Artemide che anche lei viene vista in questo rituale di iniziazione della pubertà femminile come dea orsa. Ora questo è importante perché a Involk c'è tutto un sistema di credenze secondo cui il 2 febbraio l'orso esce dalla sua tana dove ha passato il letargo invernale e guarda il cielo e guardando il cielo riesce a capire se l'inverno è finito oppure se bisogna aspettare altri 40 giorni. Questo è un è una credenza folclorica che si si ritrova in tutto il mondo praticamente in tutto l'ambito diciamo così indoeuropeo ma anche meglio eurasiatico più che altro perché appunto abbiamo visto come anche popolazioni come quelle nativo americane oppure siberiane conoscono un sistema cultuale e rituale che è strettamente connesso anche a questi a questi riti dell'antica paganità europea quindi l'idea è che siano veramente molto antichi risalgono al paleolitico e siano da inserire come poi vedremo meglio in un'ottica sciamanica anche proprio. Ora l'orso esce dalla tana il 2 febbraio e guarda il cielo se il cielo è bianco senza nuvole quindi ancora invernale proprio quel cielo invernale che dà fastidio anche da vedere l'orso ritorna nella tana per altri 40 giorni quindi l'arrivo della primavera viene rimandato di 40 giorni. Questa credenza la ritroviamo anche sulle Alpi o sui Pirenei e talvolta al posto dell'orso c'è l'uomo selvatico che è un simbolo equivalente. Esiste uno studio fatto molto bene del compianto Enrico Comba che è dipartito un paio di anni fa sul connessione funzionale tra l'orso l'uomo selvatico il folle queste entità liminali diciamo così tra cultura e natura tra uomo e natura appunto natura selvaggia. In questo senso l'orso si può vedere come l'iniziatore sciamanico come l'antenato tant'è vero che negli idiomi finnici, sami e via dicendo quindi dell'area scandinava appunto e poi anche eurasiatica e poi anche in America nella zona subaltica l'orso viene denominato nonno quindi ha questa valenza di antenato mitico no? Che appunto funge nell'iniziatore alle confraternite maschili, confraternite maschili segrete come quella dei lupercali. Ora anche sui lupercali bisogna dire due parole subito secondo me in questa ottica di mannerbunde cioè di confraternite maschili. Si pensa che i lupercali derivano dai sacerdoti di Apollo Sorano che era una divinità pre-romana, pre-latina di area etrusca, sabina e sannita, osco sannita ed era adorato sul monte Soratte. Ora questo questo tipo di Apolloctonio, infero, è esattamente connesso all'Apollo Liceus oppure Liceo tradotto in italiano cioè all'Apollo che è al tempo stesso lupo e luce quindi divinità sia della luce che divinità lupina quindi connessa al mondo infero, al mondo oracolare anche e al mondo dei defunti appunto come poi vedremo nella grotta del lupercal che è questa grotta da cui parte la processione dei lupercali. Questo è molto importante da sottolineare innanzitutto perché dimostra che la visione germanistica di un Apollo esclusivamente luminoso e razionale fondato sul logos diciamo così non trova un riscontro effettivo nell'antichità europea dove invece Apollo era anche connesso a questi rituali inferi di incubazio che sono molto importanti a Inbolc in questo periodo dell'anno di purificazione perché appunto l'iniziato imitando l'orso quindi in in questo stato di letargo mistico diciamo così può accedere alle visioni. Mi senti Michele? Sto ascoltando forte e chiaro si è solo avversata la luce. Si è staccato il cavo della luce pensavo fosse andata via la luce. Sono le entità delle società segrete che vogliono tapparti la bocca. Allora e su questo argomento dobbiamo connetterci a proprio due parole bisogna dire su un personaggio mitico che si chiama Zalmoxis. Zalmoxis è una divinità diciamo proprio due parole una divinità dei geti che è una tribù della traccia dell'antica traccia. Questi credevano che Zalmoxis fosse una sorta di semidio che appunto era andato sotto terra a compiere questo incubazio ed era stato sotto terra per tre anni. Al quarto anno ritornato in superficie aveva dimostrato a tutti che la resurrezione fosse possibile. È molto interessante questo argomento perché Mirce Eliade lo connette appunto a tutta quella tradizione di Mannerbund, di confraternite maschili segrete che appunto fondavano il loro rituale individuale sull'incubazio, su questa pratica di imitazione detalgica dell'orso, no? E come abbiamo già anticipato rituali di questo tipo esistono anche o esistevano anche nell'area Amerindia subartica dove gli rochesi, i quacchiutra e queste popolazioni Amerindia appunto avevano dei rituali identici in cui gli iniziati, gli adepti imitavano in questo rituale di incubazio il cosiddetto dio cannibale e quindi anche qua c'era un'accezione cannibalica, licantropica in qualche modo del dio che andavano a imitare con questa sorta di incubazio e vediamo che l'Apollo Sorano dei Sanniti è molto simile a questa concezione. C'è l'idea comunque che il dio sia una sorta di sovrano terribile, diciamo così, che tuttavia accoglie nel suo al di là, nel suo oltremondo, questi adepti che appunto tramite la pratica dell'incubazio riescono ad accedere al mondo degli spiriti e dei morti, che è lo stesso. Diciamo anche due parole sulla nascita appunto della celebrazione dei Lupercali, nasce appunto in epoca preromana e la processione prende appunto inizio da questa grotta, il Lupercal, che è una grotta sacra fauno all'interno di un bosco sacra fauno, quindi vediamo una dimensione selvaggia che possiamo connettere appunto alla dimensione panica della Grecia, cioè del dio Pan. Questo è molto importante perché vediamo come anticamente questa festa fosse connessa a divinità di questo tipo, divinità non tanto agresti, agrarie, quindi che avevano a che fare con l'allevamento o la cultura appunto dei cereali, ma invece con qualcosa di più selvaggio, di ancora precedente, cioè di quella fase in cui non c'era ancora la la cultura e forse non c'era nemmeno l'allevamento, ma quindi troviamo una fase ancora precedente, una fase quasi che si perde nelle nebbie del mito, quando noi sentiamo nominare tutte queste divinità come Faunos, come Silvano, si tratta di un'epoca preromana, prelatina, che va veramente tanto indietro, appunto abbiamo citato l'opinione di studiosi come Benozzo e Alinei, secondo i quali queste ritualità si possono far risalire al paleolitico, quindi qua si parla non tanto di una cultura indoeuropea a stritto senso, ma addirittura pre-indoeuropea, in cui che poi le popolazioni indoeuropee storiche come latini, romani e scelti hanno inserito in una, nel loro calendario sacro, poi però prendendole da una celebrazione molto più antica. Certo, quindi adesso andrei però a parlare nello specifico dei Lupercalia, altrimenti finisce la nostra puntata, li abbiamo annunciati, ci abbiamo girato attorno per quasi mezz'ora e non ne abbiamo parlato, anche se io devierei completamente se non fosse che non possiamo farlo, perché mi vengono in mente il carnevale, le feste di carnevale, la pace selvaggia, l'orletchino, i collegamenti contanti, con i diavoli, con i testi di demonologia, andremmo avanti fino alle 5 di domani mattina. Ma anche il discorso che abbiamo già iniziato sull'orso come iniziatore mitico e antenato mitico, poi si riconnette a tutte quelle celebrazioni carnevalesche che appunto vedono nell'orso, nell'uomo selvatico o nell'uomo cervo, tutti questi equivalenti, quella divinità, quella persona mitica che deve essere sacrificata per far nascere la primavera della morte dell'inverno. Quindi questo sacrificio del carnevale o della giobbia, giobbiana, cioè la vecchia che viene bruciata sul rogo in area padana a fine gennaio, questa giobbia giobbiana è in realtà un'epiclesi della già menzionata Diana Artemide nella sua funzione di vecchio invernale, di befana invernale. Quindi assolutamente sì, c'è questa struttura rituale carnevalesca fondata sull'uccisione dello spirito del carnevale che deriva tra l'altro anche da una festa romana che avveniva appunto il quattordici febbraio, il che vuol dire il giorno prima dei Lupercali, che è la cosiddetta cacciata di Mamurio. Mamurio era una sorta di doppio di Marte, però non un Marte guerresco, più un Marte agreste che ha a che fare anche con la difesa dei confini dei campi coltivati come terminus. Questo Mamurio vetusto veniva sacrificato ritualmente ovviamente in un'ottica mitica, rituale, simbolica e poi veniva pianto, veniva pianto appunto soprattutto dalle donne ecco, che è poi una cosa che noi ritroviamo anche poi nella cultura cristiana appunto influenzata da queste lamentazioni pagane che appunto tu hai citato giustamente le feste di Dioniso precedentemente e anche lì c'era questo elemento di pianti rituali, di lamentazioni funerarie rituali. Ora questo Mamurio è importante, questa celebrazione innanzitutto perché come abbiamo detto anticipa la morte del carnevale, il sacrificio del carnevale da cui nascerà poi la primavera, ma poi anche importante perché in ambito celtico si va a sovrapporre a delle festività connesse al dio Lug, che è il dio appunto della luce di cui appunto Brigitte, Belisame e Paredra e anche Lug viene, la morte di Lug viene pianta esattamente poi come avviene nei paesi nordici in Scandinavia con Balder, c'è questa idea del dio primaverile che in qualche modo muore e accede agli inferi dove anche qui come proserpina se vogliamo, dove viene appunto trattenuto fino al Ragnarok in questo caso, Balder cioè fino a che non ritorni l'età dell'oro praticamente che viene vista come una specie di primavera cosmica ecco, questo è un altro argomento interessantissimo che potremmo menzionare brevemente alla fine della nostra discussione se vuoi, che si può anche connettere alla quarta egloga virgiliana, dove viene nominata tra l'altro Lucina, la dea Lucina come parede di Apollo, divinità della luce che porterà la primavera cosmica alla fine del grande anno cosmico e Lucina appunto è un'epiclesi di Diana che abbiamo già menzionato come idea del day party, idea appunto dei passaggi, dei passaggi dall'inverno alla primavera ma anche nei passaggi cosmici proprio, quindi in un'ottica porfiriana quei passaggi, quei portali che fanno giungere l'anima all'altro mondo e poi in un'ottica di metempsicosi ancora nel nostro mondo, quindi questo è un altro punto secondo me importante che però non vorrei, non vorrei... Diciamo che stai creando un effetto lavatrice in questo momento, per le gli inesperti come me della materia, hai tirato, sei arrivato a Porfirio e diciamolo nel caso non lo abbiate letto, si stava riferendo all'antro delle ninfie, certamente, ma perché proprio simbolicamente l'antro delle ninfie come simbolo, come simbolo del grembo, quindi della grotta cosmica è connesso a Imbolc, perché Imbolc appunto il rigonfiamento che è un simbolo della primavera, veicolo appunto la pienezza primaverile, però c'è anche l'idea che comunque questa pienezza, questi frutti primaverili siano sotto la neve invernale e aspettino di venire fuori, quindi c'è anche un'idea se vogliamo un po' escatologica della questione, che secondo me la qualità ebloga virgiliana poi tocca in alcuni punti. Però sui Lupercali, visto che mi hai chiesto di dire qualcosa di più sui Lupercali, cerchiamo un po' di analizzare la ritualità stretta della festa. I Lupercali praticamente, i Luperci praticamente, Luperci vuol dire Lupacchiotti, che erano questi sacerdoti di Apollo Sorano, gli Irpi Sorani, questa confraternità segreta maschile dell'antica Roma, ma anche precedente abbiamo visto, che si possono mettere in relazione appunto con i sacerdoti di Apollo Lichios, dell'Apollo Lupo, dell'Alicia. Erano considerati quindi delle emanazioni dell'Apollo Lupino, quindi dell'Apollo Terribile, terrifico, quindi legato all'inverno e anche agli inferi in qualche modo, ai defunti. Questi Luperci impersonavano appunto in qualche modo questi demoni al tempo stesso dei spiriti dei morti e spiriti della vegetazione, sono strettamente connessi anche in ambito celtico, nella dottrina dei Feris, degli Elfi e via dicendo. Sacrificavano questi Luperci, questi sacerdoti lupi, si vestivano con delle pelli di capra sacrificata appunto ritualmente a metà mese, appunto il 15 febbraio. Le pelli di queste capre sacrificate ritualmente venivano tagliate a striscette e con queste striscette venivano poi fatte delle correggie con cui i Luperci appunto frustavano le donne, soprattutto le donne giovani che trovavano in giro per le strade. Ora, questo è molto importante a sottolineare perché noi ritroviamo la stessa ritualità poi in ambito alpino per quanto riguarda la celebrazione del processore dei Krampus, che è appunto di ambito non latino ma appunto di ambito miteropeo diciamo. Il simbolismo è il medesimo, solo che la festa dei Krampus viene celebrata il 6 dicembre, quindi prima della crisi sostiziale, invece quella dei Luperci è alla fine della crisi invernale, quindi appena prima che inizi la primavera, però comunque il simbolismo è lo stesso e si va a intresciare con tutte quelle tradizioni anche amerindie tra l'altro, che abbiamo visto degli irochesi, che Mirce Liade chiama il complesso cultuale del visitatore, secondo il quale appunto alla fine dell'anno e all'inizio, prima che inizi la primavera, questa stagione viene vista come una stagione pericolosa perché appunto si aprono le porte tra il nostro mondo e quello dei defunti e degli spiriti anche maligni volendo, che possono anche incidere negativamente sul raccolto e sulla fecondità degli armenti, quindi vediamo che c'è un collegamento molto stretto tra l'iniziazione personale, individuale e però anche l'aspetto collettivo, del bestiame, della coltivazione dei campi, sono tutti degli aspetti connessi perché si pensa che gli spiriti dei defunti che al tempo stesso nel senso di lemuri, erano appunto quegli spiriti dei defunti cosiddetti malevoli perché non riuscivano a lasciare il nostro piano dimensionale, quindi anche dopo la morte rimanevano sotto forma di larve, ecco diciamo così, e appunto si trasformavano poi in demoni maligni che potevano incidere negativamente sul raccolto, quindi c'è anche da sottolineare come i lupersi tra le varie, tra i vari simbolismi c'è anche questo di un'orda terrifica che tu hai nominato appunto l'exercis us feralis, cioè questa processione selvaggia dei morti che appunto troviamo in tutta Europa come conduttore odino, come conduttore il cacciatore Erne oppure Carlo V, insomma Arrecchino poi hai nominato anche tu e quindi vengono visti come una sorta di schiera funesta, no? Di spiriti dei morti che però sono anche gli spiriti della vegetazione e anche in qualche modo degli spiriti dei venti come i Marut del Rig Veda che sono il seguito furioso di Rudra, no? Che è questa versione di Shiva in qualità di Dio dei venti appunto, molto simile alla concezione della caccia selvaggia appunto europea guidata da personaggi come Odino, connessa appunto a questa figura che Dumezil chiama il sovrano terribile, no? Appunto, che noi possiamo vedere anche l'Apollo Sorano, adorato, venerato dagli Irpi Sorani, è uno di questi tipi di sovrano terribile, ecco, se vogliamo. Bene, io direi che abbiamo due strade, siamo davanti a un Bibio, in realtà mi piace di più l'immagine del Trivio con un Erma di Ermes, ma al di là di queste immagini... L'immagine del Bibio è Pitagorica, è la Epsilon, è il ramo di dischio. O proseguiamo all'infinito o ci avviamo verso la conclusione. Allora, per rispetto ai nostri amici e alla tabella di marcia, perché abbiamo fatto un po' di pasticce, adesso dovrò andare a capire come puoi gestirli, ho l'obbligo di dirti, ovviamente torni da noi. Certamente, ma noi ci conosciamo ormai da tempo, quindi è un piacere per me essere i vostri. Ho argomenti da condividere con i nostri amici. Tra le altre cose, lo inviteremo per l'uscita del secondo albo di Axis Mundi questo inverno, ma tu, un piccolo segreto in anteprima, fammi fare, non mi viene il nome, ma immaginate qualcuna rifatta della televisione che fa dei programmi di pomeriggio per Casalighe, fammi fare uno scoop. Di cosa tratterai il primo libro? Ah no, questo è ancora un segreto, lo annuncerò tra due settimane. Lo annuncerò appunto il 14 febbraio. In linea di Marzio, sarà una storia d'amore? Scusami, sarà? Sarà una storia d'amore? No, assolutamente. Sarà no, sarà un saggio di storia delle religioni pura, no? Quindi argomenti strettamente connessi come tipologia, diciamo così, a quelli di stasera. posso anticipare che sarà incentrato soprattutto sulla tradizione greca e anche sulla tradizione celtica, soprattutto. E posso anche anticipare che argomenti che abbiamo trattato stasera, come quello di Zalmoxis, di Apollo Sorano, dell'incubazio, verranno trattati in questo saggio. Io spero che avremo l'occasione anche di presentare questo saggio sul tuo canale, che per me, come detto, è sempre un piacere essere ospite tuo. A tutti gli interessati, come detto, annuncerò il titolo del libro e di che si tratta nelle prossime settimane su tutti i canali di Axis Mundi e sui miei canali personali. Quindi chi è interessato può trovare informazioni appunto tra qualche settimana sui miei canali? Vedete in sovravvisione Axismundi.blog. Io vi ringrazio per la compagnia. La settimana prossima avremo come ospite Iole De Simone per parlare di cabala e alchimia, quindi cambiamo completamente argomento pur restando nel nostro argomento. Se i nostri video ti piacciono ti invitiamo a iscriverti al canale e cliccare sulla campanella. Se invece vuoi approfondire, ti invitiamo a iscriverti su Patreon al Lexicon Simbolorum per supportarci e ricevere ogni settimana una dispensa. E chi sa che Marco prima o poi ci doni quattro cinque pagine della sua conoscenza per una dispensa su Lexicon Simbolorum. Direi che per oggi pomeriggio è tutto. Grazie e a presto. Ciao ragazzi.